Ciao a tutti i pivelli, benvenuti a campione, come vedete dal cartello siamo alla Snipe Cup, la terza tappa della Snipe Cup qui a Campione d'Italia, siamo su pokeritaliaweb.org come sempre in diretta, il torneo inizierà alle ore 16 con il day 1, oggi che è venerdì, il day 2 sabato e domenica ci sarà il final table, siamo come vedete ancora nei preparativi della sala, il torneo inizierà alle ore 16, in alto c'è anche il tavolo televisivo che non sarà trasmesso in streaming ma verrà poi trasmesso e registrato, penso su Sky Sport, vediamo i dealer entrare in sala che stanno iniziando a prepararsi, ieri erano oltre 170, mi hanno appena detto per il 330, abbiamo il nostro Francesco che gira fra i tavoli e che dire di più, vi saluto per il momento sempre qui da Campione d'Italia per Poker Italia Web, il boss in diretta da Campione, vi aspetta dalle ore 16 con Francesco per il video blog live Poker Italia Web offerto in collaborazione con Snipe Poker and Games. Grazie a tutti!